Sabato 29 luglio alle ore 20 e 30, nello splendido belvedere di Piazza Marconi di Cartoceto, si conclude Conterranea, il format promosso dai comuni dell'unica areale oleare ad op delle Marche, ovvero Mon Baroccio, Coglia al Metauro e appunto Cartoceto. Viaggio che si conclude in uno scenario che avrà alle spalle il Teatro del Trionfo e di fronte una diustesa di olivi che degrada sino al blu del mare. Location in cui la serata svilupperà il tema Teatro, luogo di anime, sviluppo e identità, argomento che identifica Cartoceto dove il teatro, anticamente frantoio e deposito di olive, si appresta a diventare il primo polo performativo multisensoriale nazionale grazie al finanziamento da 2 milioni di euro del Ministero della Cultura. Uno spazio di sperimentazione artistica improntato alla sensorialità aumentata, all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie in ambito teatrale. Un luogo dunque chiamato a connotare un territorio e a dargli una prospettiva di sviluppo con ricadute importanti su economia e sistema turistico e culturale locale. A curare questo percorso l'attore Filippo Paolasini che alternerà momenti di reading a musica e dialogo. Nel talk della serata anche il direttore di Ama Gilberto Santini è il progetto musicale sulle note della storia italiana a partire da Teatro X sviluppato da un trio d'eccezione composto dalla cantante Emilia Zamoner da Massimo Moriconi e Enrico Valanzuolo. Il menu della cena nel quale saranno protagonisti le eccellenze del territorio sarà curato dalla chef Eva Maria Valk del main sponsor Osteria del Cardinale affiancata nel racconto di Vini e Oli dal sommelier Hotel Lorenzi.